Vangelo di domenica 25 settembre 2022. Luca 16, 19-31. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai farisei, c'era un uomo ricco che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo e ogni giorno si dava l'auto i banchetti. Un povero di nome Lazzaro stava alla sua porta coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco, ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti alzò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse, padre Abramo abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo rispose, figlio ricordati che nella tua vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali, ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più tra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi. E quello replicò. Allora padre ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento. Ma Abramo rispose, hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro. E lui replicò, no padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno. Abramo rispose, se non ascoltano Mosè e i profeti non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti. Parola del Signore. Un'altra pagina tipicamente lucana, ce l'ha solo lui, la parabola che noi chiamiamo di solito del ricco e pulone e del povero Lazzaro. In realtà e pulone non è un nome, è un aggettivo, vuol dire il ricco mangione. Pensate che è l'unica parabola in cui c'è un nome proprio, Lazzaro. In tutte le parabole del Vangelo non c'è mai un nome. C'è un samaritano, c'è una donna, c'è un pastore, ma non c'è mai un nome. In questa invece c'è un nome, l'unico nome di tutte le parabole, Lazzaro. Come a dire, mentre il ricco non ha nessun nome, Dio conosce per nome i suoi poveri, li conosce uno per uno e li ascolta. Al contrario di quel ricco, il suo peccato non è essere ricco e banchettare tutti i giorni. Il suo peccato è stato non accolgersi di Lazzaro, non considerarlo. Per lui Lazzaro non è mai esistito, anche se stava sdraiato davanti alla sua porta a mendicare le briciole. Perfino i cani gli andavano a leccare le piaghe, un particolare molto vivo. E poi però c'è un secondo quadro. La situazione si ribalta nell'aldilà. Nell'aldilà Lazzaro è nel seno di Abramo, dice il testo, cioè un modo molto ebraico per dire nel cuore di Dio. Nel seno, come nel seno della madre, Abramo è il padre di tutti i credenti, ecco è nella pienezza della vita, mentre il ricco è lontano, c'è un abisso fra di loro, per dire le sorti si sono invertite e non si possono più cambiare. E quel ricco che aveva pensato solo a se stesso nella vita terrena, nell'altra vita incomincia a pensare invece ai propri fratelli. Manda Signore Lazzaro ad avvisare i miei fratelli perché non vengano qua. È straordinaria anche la risposta. C'è la seconda parte della parabola molto interessante. Abramo dice hanno Mosè i profeti, cioè hanno le scritture sante. Ascoltino loro per cambiare la vita, per non finire diremo noi all'inferno. Enrico dice ma se uno, qualcuno dei morti andrà da loro, si convertiranno, prenderanno paura. Se non ascoltano Mosè i profeti, dice Abramo, neanche se uno risorgesse dai morti saranno persuasi. Naturalmente Luca quando scrive il Vangelo è già tutto successo. Gesù è risorto dai morti, quindi qualcuno è risolto dai morti e ci è venuto a indicare la strada della vita. Ma se non ascoltiamo la parola, neppure uno che risorge dai morti ci convince. Ecco allora questa parabola non è solo, come dire, il grande insegnamento contro l'indifferenza verso il povero. Come dire, aprite gli occhi, apriamo gli occhi a quelli che soffrono, apriamo gli occhi ai Lazzaro che sono alle nostre porte, alle nostre coste, nelle nostre città. Certo che è questo, perché altrimenti nell'altra vita ci ritroveremo dall'altra parte. Loro saranno i primi e noi gli ultimi. Ma poi c'è anche l'altra parte della parabola. Aprire il cuore, proprio per fare questo, alla parola di Dio. Accogliere quegli insegnamenti di vita che colui che è risorto dai morti ci ha donato insieme a Mosè e ai profeti. Se ascolteremo la parola di Dio, allora non diventeremo mai indifferenti. Allora potremo camminare davvero nella strada dell'amore per diventare delle persone autentiche, per imparare ad amare come Gesù ci ha amato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.